No, è successo che eravamo all'ultimo giro, io sempre lottavo con Piero perché lui aveva piccoli problemi nella macchina, io stavo tirando molto molto forte e sono arrivato che forse io sono uscito dalla sua scia un po' troppo tardi o lui si è spostato di un piccolo millimetro comunque io niente contro lui, siamo 100% e anzi lui è molto bravo, molto forte